Allora, scegliere il tema sono sempre i sindacati, noi seguiamo a Rota e collaboriamo perché chi meglio di loro ogni anno, essendo i protagonisti poi di tante realtà, non soltanto il concertone, ma di tante iniziative che andranno collaterali al concertone, il collegamento dalle manifestazioni di Bologna, a scegliere il tema perché siamo vicini alle lezioni europee e perché ormai lo sguardo locale non è più esaustivo, bisogna guardare al mondo europeo sempre. Sarà un'edizione secondo me schioppettante come l'anno scorso, per questo ho scelto di confermare i due grandi conduttori dello scorso anno che per me sono stati una sorpresa, sono stati una sorpresa insieme perché Ambra la conoscevo, Lodo meno, devo dire che hanno questa capacità di saper gestire il palco e quindi la lunga platea di San Giovanni, la larga platea e invece il livello televisivo e quindi il mantenimento della ritmica televisiva. Molti artisti giovani, abbiamo voluto proprio in base alle indicazioni che il marketing ci ha dato, visto i target che erano all'ascolto lo scorso anno, abbiamo voluto dare visibilità e occasioni a tanti giovani.